Parliamo di competenze perché For Manager ha dedicato al tema della sostenibilità una survey dedicata. Una survey dedicata con un migliaio di interviste e queste interviste ci hanno raccontato cose anche secondo me non scontate. Ad esempio una risposta che per me non era scontata, la sostenibilità è solo un costo e lo dice però soltanto il 15% degli intervistati. Ecco, forse qualche anno fa Torre non sarebbe andata così. Assolutamente, questo è un settore che già da diverso tempo sta cambiando le sue dinamiche interne. La pandemia ha accelerato enormemente processi virtuosi all'interno di un numero crescente di aziende italiane. E' quello che oggi caratterizza la maggioranza delle imprese manifatturiere che noi periodicamente consultiamo anche su questi temi e che c'è la consapevolezza che la domanda di prodotti, servizi, comportamenti sostenibili sta aumentando in modo esponenziale sui mercati. E quindi c'è la tendenza a, diciamo, adeguarsi anche alla domanda che proviene dai mercati. Non solo, ma così come è accaduto per l'innovazione. Ci si rende conto sempre di più che la sostenibilità genera valore, crea valore. Quindi non è solo uno strumento per incrementare l'efficienza. A questo proposito è importante anche notare però che le imprese ci dicono che si rendono sempre più conto che per essere veramente sostenibili devono cambiare il modello di business. E questo implica una domanda crescente di competenze, soprattutto competenze manageriali, anche nelle piccole imprese. D'altra parte i manager italiani e un pochino in tutto il mondo, anche in Europa, si stanno rendendo conto che hanno bisogno di aggiornare le proprie competenze. Quindi c'è da una parte una crescita di domanda di competenze manageriali per l'innovazione e per la sostenibilità da parte dell'impresa. dall'altra c'è un'offerta sempre più qualificata di imprese. Ci sono poi dei fenomeni importanti. Ad esempio noi monitoriamo i bandi regionali che in qualche modo impattano sulle competenze regionali e sulle competenze manageriali. Abbiamo visto ad esempio che la Puglia in occasione del voucher per gli export manager ha tenuto un comportamento virtuosissimo, per cui ad esempio ha aumentato in maniera notevole non solo il numero di aziende che hanno partecipato a quel bando, ma anche l'efficacia di quel bando. Quindi le competenze manageriali, se correttamente anche valorizzate dalla parte pubblica, sono in grado di stimolare la competitività delle aziende. Stando al tema delle competenze, Torre, mi pare di vedere da parte delle aziende effettivamente una domanda crescente di professionalità. Tra l'altro vi sono aziende che hanno addirittura aperto degli uffici ad hoc dedicati alla sostenibilità e però l'offerta formativa forse è un po' in ritardo nel proporre figure adeguate manageriali e non solo. Quindi in questo momento c'è effettivamente una sorta di gap? Allora c'è un gap ampio che ci caratterizza, ma caratterizza un po' tutti i paesi europei. Il sistema formativo non è pronto ancora. Non a caso molte aziende stanno recuperando le academy aziendali. Le aziende più grandi italiane stanno ritornando a fare un pochino formazione all'interno. D'altra parte però è anche vero che oggi è molto più facile fare autoformazione. Cioè le fonti, soprattutto digitali, attraverso le quali è possibile autoformarsi anche su questi temi sono molto più ampie e molto più qualificate. Certo è che il sistema formativo ed educativo deve adeguarsi molto rapidamente perché il numero di competenze che saranno coinvolte dai processi di trasformazione sostenibile sono molto ampi e di alcuni ancora non sappiamo bene quali siano i contorni tra l'altro. Ecco, un'ultima domanda Torre riguarda il contesto di mercato perché un'altra risposta che mi ha colpito molto nel vostro sondaggio è quella legata ai rischi, cioè gli imprenditori che valutano i pro e i contro della sostenibilità cominciano a mettere sul piatto della bilancia i rischi della non compliance, quindi del non adeguamento, avere meno mercato, avere più limiti operativi alla propria attività, avere minore accesso ai finanziamenti, il che a mio avviso significa che il sistema esterno sta cominciando a lavorare a mio avviso insomma nel modo giusto, cioè creando una serie di, un imbuto per incanalare anche i più riottosi ad andare lì, nel senso che il messaggio è guardate che comunque andare lì alla fine vi conviene. Non solo conviene ma addirittura stiamo rilevando la crescita della consapevolezza che sulla sostenibilità si gioca il futuro competitivo dell'Europa, cioè il fatto di posizionare il continente europeo su questi temi paradossalmente sta indicando ai nostri imprenditori anche una direzione sulla quale, verso la quale guardare, dopo aver perso un pochino di opportunità con l'innovazione tecnologica e con la trasformazione digitale. Questa potrebbe essere veramente, anche psicologicamente, in termini di visione anche imprenditoriale per i prossimi anni un punto di svolta, direi soprattutto per le aziende meridionali, cioè paradossalmente noi vediamo molto fermento sulla sostenibilità proprio al Mezzogiorno d'Italia, ma la sostenibilità è anche un modo, secondo noi, attraverso il quale le aziende potrebbero incominciare a mettere mano ai modelli di business che molto spesso non sono adeguati alla modernità e soprattutto mettendo mano ai modelli di business potrebbero anche essere più accoglienti rispetto alla trasformazione digitale, cosa rispetto alla quale purtroppo, ahimè, soprattutto le aziende meridionali sono in fortissimo ritardo. Grazie, grazie Giuseppe Torre dell'Osservatorio Scientifico di Form Manager. Sentiamo da Lello Naso se dal pubblico sono arrivate domande per i nostri ospiti. Prego, Lello. Sì, abbiamo selezionato una domanda per ognuno dei nostri ospiti. Comincerei proprio con Giuseppe Torre. Ci scrive Laura Mariano di Manfredonia, che è una studentessa che sta affrontando la maturità. Ci dice, quali sono i profili più richiesti dal mercato del lavoro, intende, e che facoltà mi consiglia di fare? È la domanda delle cento pistole. Esattamente, perché noi abbiamo che, diciamo, la velocità di obsolescenza di moltissime professioni oggi è elevatissimo. Quello che posso consigliare è sicuramente quello di, ovviamente, affrontare le materie scientifiche. Sulle materie scientifiche c'è sempre una grandissima domanda e sono, diciamo, costituiscono un po' la cassetta degli attrezzi che poi consentono di affrontare qualsiasi mestiere, da quelli manageriali a quelli tecnici. Quindi, senza trascurare, però, e questo è fondamentale, secondo me, per gli studenti di oggi e per i professionisti di oggi e di domani, anche di sviluppare tutte quelle competenze che chiamiamo trasversali o soft, eccetera, quindi affiancando agli studi universitari, ad esempio, tutta una serie di altre attività che mirano a sviluppare altre competenze, che ne so, l'empatia, la leadership, la creatività, la capacità di avere una visione del futuro, la capacità di ragionare su orizzonti temporali molto più lunghi. Queste, ad esempio, sono competenze trasversali molto, molto richieste nel campo, tra coloro i quali devono occuparsi di sostenibilità, economia circolare, eccetera. Tenete conto, ad esempio, che quando un'impresa modifica il suo modello di business in chiave sostenibile, tutta l'azienda deve proseguire, procedere dietro questa innovazione. E quindi il manager, l'imprenditore, tutti in azienda devono essere capaci di essere empatici con i lavoratori, con i dipendenti e far sì che tutta l'azienda proceda in quella direzione. È uno sforzo che non è tecnico, non richiede conoscenze tecniche, matematiche, fisiche, informatiche. È uno sforzo che richiede delle grandi abilità trasversali. Ecco perché le consiglio di frequentare delle università tecniche, ma anche di fare fuori attività di volontariato, di altra natura, in modo proprio per prepararsi ad un mondo che chiederà un mix di queste competenze. Sì, mi permetto di aggiungere io, ma è una mia riflessione personale, leggere anche qualche buon romanzo. Assolutamente. La parte umanistica nostra è fondamentale, italiana è fondamentale.